Bike Park Rimini nasce proprio di fronte alla stazione dei treni per favorire la mobilità dolce. La nostra clientela sono ciclisti, persone che utilizzano la bici per andare a lavoro, per andare a scuola, siamo pendolari che viaggiano sia per Rimini che fuori Rimini. Questa struttura è nata infatti per offrire un servizio completamente ecosostenibile e oltre ad avere servizi di deposito e noleggio abbiamo anche un'officina ciclomeccanica operativa tutti i giorni. I servizi del Bike Park a favore della città di Nantes dei turisti sono il deposito biciclette, il deposito bagagli, il noleggio sia di bici eletti che di bici muscolari, abbiamo ancora attiva l'offerta per le cargo bike a noleggio gratuito, attiva fino al 31-12 di quest'anno. All'interno del Bike Park si trova anche un piccolo bar per le colazioni e piccoli aperitivi, abbiamo una piccola lavanderia e dal mese scorso abbiamo attivato anche una collaborazione con Trenitalia Tiper, per cui chi presenta il biglietto su destinazione Rimini avrà una scontistica del 30% sul noleggio della bicicletta sia muscolare, che è elettrica e questa offerta del 30% è valida anche per gli abbonati annuali del treno e per i dipendenti Trenitalia. Rimini negli ultimi anni è una città che punta sempre più sulla mobilità sostenibile e noi facciamo parte di questo progetto e siamo veramente orgogliosi perché siamo una delle città migliori in Italia a livello di mobilità sostenibile.